Signori e signori, buonasera. Sono onorato di presentarvi la terza edizione degli auguri di Natale dell'IT Medi di San Giorgio Crimani. Buona visione. Buona visione. Buona visione. Buona visione. Buona visione. Buona visione. Love me so Let it snow Let it snow Let it snow Let it snow Let it snow